E tanto voglia per tutti ragazzi, finalmente ci siamo, ci siamo, è tornata la modalità Zombies, è arrivata Die Machine, la prima mappa di Black Ops Cold War Zombies della nuova storia etere e oscuro e allora arriva anche il primo video tutorial, cominciamo come della tradizione, attivare la corrente e il pack a punch, che però non è così immediato stavolta, magari come può sembrare, come si ricordano i grandi appassionati della serie in passato, allora direi di cominciare subito dicendovi che per attivare la corrente, se non ho sbagliato i calcoli, servono la bellezza di 8.250 punti, che non sono bruscolini, allora comincerete su Die Machine che è la reinterpretazione di Nacht der Untoten, ci sono anche degli indizi particolari sulla storia, ne discuteremo ovviamente in un video a parte, partirete nello spiazzo, vi serviranno 500 punti per aprire la prima porta all'avamposto Omega, che è l'iniziale struttura di Nacht der Untoten di World at War, dopodiché serviranno 750 punti per passare al piano superiore, che è la camera, a quel punto dovrete uscire all'esterno al costo di 1000 punti per raggiungere il luogo dello schianto, poi 1250 punti per raggiungere il tunnel e la sala di controllo, a questo punto potete scegliere tra due vie, potete andare sulla sinistra o sulla destra, tanto le due stanze portano alla stessa struttura, io scelgo di solito di andare a sinistra, come potete vedere qui nel video, vi servono 1500 punti per aprire l'infermeria che si trova sulla sinistra e poi altri 1500 per avere accesso all'acceleratore di particelle, che è il luogo un po' più misterioso di questa mappa. Poi oltre a questo serviranno altri 1750 punti come vedete nel video per attivare poi la corrente, per raggiungere la stanza della corrente che poi si ricollega con l'esterno della struttura, con lo spiazzo dell'inizio appunto della mappa. Allora vi dicevo servono più di 8000 punti, quindi attivare la corrente in questa mappa non è certamente una cosa rapidissima, ovviamente se siete in più giocatori la cosa sarà più semplice, io l'ho registrata in singolo, ci ho messo un pochino di round. Al di là di questo vi consiglio ovviamente di sfruttare l'uccisione corpo a corpo perché vi dà come sempre più punti, sfruttare al meglio tutti i bonus, ad esempio i doppi punti quando capitano sono una bella manna dal cielo e poi non dimenticatevi di coricarvi davanti alle bibite, davanti al juggernaut e alla stamina che incontrerete sul vostro cammino perché vi danno i soliti 100 punti in più ogni volta. Allora non sono tantissimi però vi possono salvare un po'. Poi attivata la corrente tra l'altro non è in realtà attivata del tutto, dovete anche attivare due generatori che si trovano nell'acceleratore di particelle, vi basterà premere questi due pulsanti e a quel punto la corrente sarà davvero attivata. Ok adesso sotto al generatore di particelle si viene a creare una sfera, un globo di etere oscuro. Questo globo di etere oscuro è fondamentale per accedere al pack a punch che però prima deve essere costruito. Allora quando il globo si è formato voi potete raggiungerlo, interagire con esso e verrete teletrasportati in una sorta di dimensione parallela. A quanto pare siamo sempre in die machine ma in una dimensione dominata dall'etere oscuro. Forse ci sarà qualche legame con la storia, per il momento non lo sappiamo. Allora nell'interfaccia di gioco vi verrà detto e anche sulla minimappa, ecco una delle grosse introduzioni di questo gioco è la minimappa nella modalità zombies, vi verrà detto di raggiungere un determinato punto della mappa. In particolare io per la missione che in questo caso è attivare il pack a punch mi sono dovuto dirigere nell'area dello schianto aereo. Qui ho trovato un altro tunnel col quale interagire. Questo tunnel spazio temporale mi ha riportato all'interno dell'infermeria e guarda caso proprio qui ho trovato il pezzo del pack a punch. Va raccolto e va portato al pack a punch fantasma che troviamo sempre in questa dimensione ma nel luogo dove nella dimensione reale si trova il globo dietro e oscuro. Qui basta interagire e potete costruire il pack a punch. Come vedete è una versione un po' modificata del pack a punch, un po' diversa da quella che trovavamo nella modalità tradizionale a cui siamo abituati. Qui potete scegliere anche di potenziare al primo, al secondo, al terzo livello le armi ovviamente la potenza è crescente. Vi ripeto quando siete all'interno dell'etereo scuro che dovete cercare il pezzo del pack a punch non è detto che dobbiate andare per forza al luogo dello schianto. Ci è capitato ad esempio in una partita di dover trovare questo pezzo anzi di raggiungere il terminale dell'etere nell'area del quick revive che è invece in un'altra zona. È sempre lì vicino ma in un'altra zona all'aperto. Quindi fate bene attenzione agli indizi che vi dà il gioco, alla direzione che dovete prendere per trovare questo pezzo del pack a punch. Niente, questa era una velocissima guida su come attivare la corrente e il pack a punch perché magari qualcuno, almeno inizialmente, poi soprattutto ci sono anche giocatori che iniziano oggi per la prima volta a giocare alla modalità zombie se non sanno ad esempio che il pack a punch serve a potenziare le armi, a renderle molto più potenti. Questo era un tutorial velocissimo, ci vediamo ad un prossimo video e buona zumbata a tutti.